ciao a tutti e benvenuti in questa edizione speciale del fantastico mondo di lù mai avrei creduto di dover fare un tutorial su una mascherina ma visto che sono introvabili ho pensato che questo tutorial potesse essere utile a molti di voi per realizzarne in una casa io ho usato del tnt ritagliando una tovaglia mai utilizzata usa e getta per i parti poi degli elastichetti e per fissare il tutto ho usato una spellatrice se non avete il tnt potete utilizzare la carta da forno mi raccomando queste mascherine sono usa e getta quindi ogni volta che uscite ne dovete indossare una ora vi mostro come fare iscriviti al canale